Ciao a tutti, mi chiamo Julio Vasquez, mi occupo di realtà aumentata, comunicazione digitale e marketing. Vi aspetto il 26 maggio per parlare di tutti i vantaggi che offre la realtà aumentata alle aziende. Mi chiamo Matteo Fabri, ci occupiamo ormai da 15 anni di nuove tecnologie per il patrimonio culturale e per le piccole e medie aziende. Nel seminario illustreremo alcuni modi per innovare il processo produttivo grazie alle tecniche di realtà virtuale, realtà aumentata e realtà mixata. E se c'è tempo qualche pillola di stampa 3D. Perché un imprenditore dovrebbe partecipare al seminario? Credo che un imprenditore dovrebbe partecipare a questo seminario per avere informazioni e per capire qual è il mondo nuovo che sta arrivando nelle tecniche di manutenzione, sorveglianza delle macchine e soprattutto per innovare il proprio processo produttivo. Mi ha detto che è il momento di aggiornarsi ragazzi. Basta stare fermi, bisogna evolversi e questo è il momento giusto per guardare al futuro. Vi aspetto il 26 maggio negli uffici della CNA. Grazie. Grazie.